Ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro web TG. Nasce Betania Informa, periodico dell'ospedale Villa Betania di Napoli, il primo magazzin di cultura medica prodotto da una struttura ospedaliera del Sud Italia. Betania Informa è il primo periodico cartaceo e digitale di informazione sanitaria del Sud Italia, realizzato da una struttura ospedaliera. Il magazzin rappresenta uno strumento strategico nelle attività di informazione e comunicazione dell'ospedale evangelico Villa Betania, gestito da oltre 40 anni dalla fondazione Villa Betania e fondato dal medico napoletano Teofilo Santi. Il giornale segna un ulteriore passo avanti nella strategia di comunicazione dell'importante ospedale napoletano, oggi punto di riferimento per le aree limitrofe al quartiere Ponticelli e di molti comuni della provincia, coprendo un bacino di utenza di oltre 400.000 abitanti. Tra i temi del primo numero, in distribuzione da giugno, particolare attenzione alla salute della donna. Due, gli approfondimenti, la scelta del parto naturale con la novità del parto in acqua e la prevenzione del carcinoma cervico-vaginale delle donne extracomunitarie che vivono nella periferia est di Napoli in condizioni di clandestinità. Betania Informa sarà distribuito gratuitamente con cadenza trimestrale all'interno della struttura ospedaliera di Ponticelli e nelle chiese evangeliche della Campania. Ed anche per questa edizione è tutto, grazie dell'attenzione. A tutti voi auguro un buon proseguimento di giornata.